La repressione nello Yemen fa nuove vittime. La polizia ha sparato sulla folla che aveva eretto barricate nella città di Taez. Il bilancio, secondo fonti mediche, è di almeno un morto. Scontri anche a Sana'a nelle immagini dove si riportano due vittime. I negoziati sono in stallo dopo tre mesi di mobilitazione. Il presidente Abdullah Saleh si aggrappa al potere. Al colloquio con i ministri del Golfo, i rappresentanti dell'opposizione inflessibili vogliono date precise per il ritiro del presidente. Saleh, sempre più isolato, chiede condizioni di immunità per lui e il suo clan difficili da accettare per l'opposizione. La questione approda questo martedì al Consiglio di sicurezza dell'ONU.